La voce È arrivata la voce di qualcuno, solo la voce, senza il corpo. È una voce di uomo, calma nel tono, nonostante il gelo che adesso assedia il luogo. Quella stanza normale, lo studio a metà del corridoio, lì dove minime incombenze toccano ai nervi cranici e dove noi vertebrati finiamo per accartocciarci su noi stessi e godiamo dello stesso godimento di cui godono le sinapsi quando smettono di muovere le antenne o di spaventarsi del vuoto d'aria che pela e scoscende tutto quel poco rimasto delle nostre facce lasciate nel vaso dell'ingresso. Hai presente la perfezione della mela, di questa precisa mela che guardo come la guardò Cézanne, elevandola per sempre a mela di ogni altra mela con lucido e l'opaco, l'arancio e il verdastro d'azzurro punteggiato estesi di riflesso a tutto il mondo e poi trasmessi al lavorio del baco che si scava uno spazio vitale quell'attimo prima del letargo quando metodico prende piena cognizione dello spazio. Tutto questo solo per il gusto di un viaggio protratto fino all'orlo del dirupo perché il discorso intanto cade muto davanti alle abitudini di cena muto e inagguato alle soglie di una terra affamata di guerra e di vendetta e la voce si sente inadeguata vorrebbe essere Irlanda, Siria, Bosnia, Cecenia o Alabama nelle fasi più cruente della storia ma farsi anche qualche scroscio di pioggia qualche volta e maestrale in Sardegna il giorno che il mare mi ha travolto insieme con la povera mia fede disposato da poco per chiudersi di colpo nel suo grembo tutto illuminato d'oro ma noi remavamo remavamo finché abbiamo avuto fiato e lotta e gesto solo dopo che sono evaso dal mio periplo malvagio senza più desiderio d'altro ora è per sempre naufrago nel ricordo involontario non è per il mio periplo non è per il mio periplo